aio bimbi belli allora il cammino dell'italia va fatto per forza beh cazzo lo facciamo all'inizio lo lasciamo in fondo io direi di partire con questo partiamo proprio col botto che godo se la posizia di caressa che cresce il mio parte la mamma di break con così lopardi così carezza o guarda solo a casa sia bella ma comunque questo gol se non ci fosse stato l'emiral sarebbe stato con l'uguale è l'unica partita che mi siete persi voi mi sa utile agire utile agire eravamo si tutti a casa mia qua ecco ultimo gol di margheritoni con la maglia dell'italia qua eravamo io e te a casa no vabbè eravamo già passate abbiamo cercato di usare meno forze possibili qua eravamo tutti a casa mia no io ho veramente temuto di perderla sta partita raga ma è bello no che noi il secondo tempo gli abbiamo gli abbiamo distrutti meno male ha fatto quel gol pescino se non andava a rigore un'altra volta qui col belgio eravamo a roma qua si minchia questa è veramente pensavo piazza del popolo si ma poi veramente questa partita gliene potevamo fare 54 eh stato uno non ce l'hanno annullato qua immobile c'è veramente la testa dei cazzo no qua immobile cioè io fossi un belgo avrei più stato immobile beh questo è il gol più bello dell'europeo ma non è tanto il tiro a giro è tutti i difensori che serve eh esatto è quello che era prima del tiro a giro chiaramente secondo me eh piacerebbe dirlo per me sto rigore c'era no se con la spagna se si andava fuori lo ammetto non avevano rubato nulla eh mi si batteva le mani bravo a volte un po' di culo ci vuole ma purtroppo per vincere sarebbe anche il culo eh quando le cose ti girano bene po' chiesa chiesa ma c'è poi sto gol dal nulla inaspettatissimo Morata che ho un pimpone di merda ci si andava guarda il legge lo lascio sto rigore qui di di Giorgini è una cosa pura sì ma per me anche Giorgini non ha capito che se ne ha tirato uno così non li può tirare tutti così eh 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 io ero proprio qua raga diciamo che per essere una squadra che non è assolutamente favorita per vincerlo abbiamo avuto tanto io ero avuto un brollo io santo che questo qui è uno scarpa sì la peggio sbrodolata difensiva forse dell'europeo totale sì sì no ma sbrodolata assurda ma poi è un brodo di merda sbrodolata qui c'è il casino io ho detto quando è entrato non ci credevo madonna mamma mia ricordi di bedami papi noi eravamo a Castel Sant'Angelo e la paese era a 40 secondi in ritardo e noi per quanti secondi prima si è sentito l'urlo di tutta Roma bella che qua non è che la parata l'ha manata poi sul palo è entrato per tirare il rigore ne dovete mangiare ancora di pasta asciutta ci stanno ragazzi i commenti degli inglesi sto trangendo per l'ennesima volta direi pensa che c'è gente che guarda ancora il 2020 io cordiale saluto dalla Russia vabbè i russi che supportano l'Inghilterra penso non esistono proprio ecco io purtroppo non non ho visto l'Italia sollevare la coppa rimonta studio della Serie A dai Torino-Napoli vabbè ma ma che cazzo di cosa è questo questo è peggio dei FIFA ragazzi 2-2 ma che cazzo sono sventato vabbè Meggiorino ha fatto un gol spettacolare vabbè Meggiorino ha fatto un gol spettacolare però è il miglior giorno della sua vita penso ha recalcati la Sampdoria raga è 40 anni alle stesse maglie è peggio della Lazio il sapato che torpeva che ci sono in Giorgio in Giorgio in Giorgio in Giorgio in Giorgio a aufo martins ah via Babo Viri ma percce c'è anche se non fa gol e tromba uguale come il gua quella palla lì nell'angolo diceva una volta su 200 Che sfiga che ha avuto Totti, raga Con Peppa Pig da tornare su braccio Aveva dei momenti in cui Diamanti faceva il panico E qua tutti i romanisti, crocione No, 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 te te la guardi, coglione No, te te la guardi Madonna quadrato, che bidone Ma fai finita, crea e guardi Ci ha fatto godere di più Mamma mia, no No, questo è Buffon, raga Cioè, Buffon questa la devi fare Cioè, ti tira da 40 metri Vabbè, Pigno, gli hai ribalzato davanti, forse Quello, angolata non era Guachin che... Partita agghiaggiante Dispiace, Fra Thomas, ragazzi Vabbè, ma avete preso doppietta da comandini Quindi, Pedro, sia ancora peggio Questo, beh, sono i gol più belli A strada dei derby di Milano Certo Partita a 20 anni prima la palla Oddio Questa è il 2010 che rubarono Messi, ragazzi È un alieno Bello è che Messi i gol li fa Ma li fa anche fare A differenza di... Quanti? Ah, in 10 il Chelsea ha finito questa partita Sì, beh, ma non puoi fare questo fallo di frustrazione Solo una zero, eh Cioè... Dai Beh, questo è un po' umiliante Vai Ma poi gli è passato accanto Non è arrivato tutta a rete Qua è sfiga, eh Ah, sì Eliminare non farcevola così Cerchio X Boh, boh, boh A casa Oddio Questa non me la ricordo No, questa è la parata Gli è rimbalzata davanti Tutti continuano a dire che Benzema è uno scarpone Ma secondo me Benzema è strettissimo Aia Non mi sbaglia anche lui, eh Eh sì No, io ne parlo due o tre E' pazzo Guarda mamma com'è toldo Qua non era ancora rigorista lui Lui Qua fu A Roma Qua fu un 2-0 secco Sì, fallaccio Ma non fu una partita poi così Cioè, non viste le più belle Assolutamente le più belle in Champions League Tra l'altro Cioè, vabbè 2-0 De pochi gol di testa di Messi Ma questo è fallo, dai Poi è bello Pujol fa il dribbling e Ronaldo fa la scivolata Fantastico Deve essere il contrario Uno degli ultimi Arsenal degli invincibili Ma d'accordo Sono sgravati sto per te Dove l'ha messa? Non lo sai No, mamma mia Torres Torres, ragazzi, il Prime Ma che Prime? Qua era Liverpool Quando era dal Chelsea È diventato Majorini No, è un metro e venti Ma perde altissima No, ingenuità assurda qua Dopo che l'hai ripresa così Però fa male No, qua l'ho vidi in diretta anch'io Fu dolorosa Però al secondo tempo Real Madrid ha fatto quel che gli è parso Godini alle finali fa sempre gol Ha fatto più un cazzo l'atletico Hanno giocato un 11 dietro pallone Reggi, reggi, reggi Pino o poi rimbarcato il golo Quindi Grandi squadri su Milano a vicenda Boh, vediamo cosa vuol dire Certo, potevano anche scegliere un'altra maglia a Barcellona Con chi facilità giocava di Perino E Robini per i ragazzi Gli volava il padrone tra i piedi Non strusciavano mai Ma qua volevano un fallo che non esiste Basta con questa atletico Tanto lo prendo, non vi preoccupate Questo è rigore, eh Insomma andare al ritorno a sapere che devi rimontare 4 gol E con la vecchia regola non ne devi far segnare uno a loro 5 6 Niente, non ce la fanno Mamma mia, Riveri Che motorino 7-0 Manco su FIFA Manco su FIFA, regà Oddio, questo poteva essere il fallo però, eh Sì, vabbè, questo è rigore plateale Stava a capire un cazzo la Madrid qua, eh Beh, forse è parabilino sto qua, eh Però al 47esimo sarà stato 3-0 e tanta roba, eh Benza, mi è anche arrivato in finale con una squadra che ha demolito il Real Che comunque, insomma, ti caio un po' addosso, eh No, però Torres giocava da solo, ragazzi Dossena Gekko Gekko Per me Gekko è fortissimo Sempre detto Gran gol di Gekko Ah, c'è tempo anche per il quinto Cioè, il 4-1 al novantesimo Cioè, fino all'ottantottesimo è una partita normale sta qua Dopo è degenerata Madonna, che è sto difensore La difesa è veramente ferma C'è più buchi di groviera De Rossi giovane Appena campione del mondo Inglesi Vabbè, c'era Don in porta Capibile 6-0 Da una falce fa nulla Cioè, lo sai che te la mette lì, ci provi Sgravatissimo sto gol Peccato non serva un cazzo Dai, fallo un gol E vrà Solo Messi è capace di fare una cosa del genere Nooo Ma chi è stato Barriera? No, dai Poi Madonna Solo 56esimo 4-0 Eh Jeffrem Chi cazzo è?